Rosanna Gravante, direttrice della Casa dei Diposti Centro Diurno Maria Cargani, i nonnini che incontrano i piccoli studenti per festeggiare la giornata internazionale e nazionale dei nonni. Ecco, un'iniziativa alla quale voi avete aderito. Sì, un'iniziativa molto molto importante grazie alla San Leucio insieme alla maestra Ornello Buono che porterà qui i bambini della seconda B. Quindi sarà un momento molto importante perché è uno scambio intergenerazionale da due mondi che sembrano due mondi completamente diversi e molto lontani, l'uno dall'altro, ma invece così vicini. Ambe i due hanno bisogno di coccole, di un sorriso, di certezze, di tenerli per mano. Sarà una giornata piena di attività, una giornata di incontri dove i nonnini avranno sicuramente un atteggiamento positivo, un miglioramento psicofisico, dall'altra parte i bambini un atteggiamento positivo nei confronti di persone anziane e nei confronti di persone disabili. Un momento molto importante perché noi siamo stati chiusi per tre anni a causa del Covid, per cui questi momenti e questi incontri sono stati assolutamente difficili, addirittura non ci sono state state date le possibilità di poter effettuare questi incontri. Quindi aspettiamo questi nostri bambini a braccio aperto e questo incontro tra i nostri nonni e i bambini della seconda B. Grazie a tutti.